Spazio approfondimento di TRM H24, lo dedichiamo ad una performance di grande successo che appunto la cripta del peccato originale ha avuto quest'anno nella nostra città. Sono stati 8.000 i visitatori che nel 2012 hanno avuto la possibilità di apprezzare dall'avvivo proprio la cripta del peccato originale, nota anche come la Cappella Sistina del Rupestre, ubicata nei pressi della città di Matera, sulla strada statale 7 in direzione Miglionico. Il bilancio è stato reso noto da Lucia La Terza, presidente della cooperativa Arte Z, che gestisce per conto della Fondazione Z, ma il sito Rupestre. Si tratta di un bilancio assolutamente positivo, alla luce anche dell'incremento del 10% di visite rispetto all'anno precedente. Abbiamo la possibilità di commentare questi dati in studio questa mattina con il presidente della Fondazione Z, ma Raffaello De Ruggeri, l'avvocato Raffaello De Ruggeri, grande conoscitore insomma di tutto il nostro patrimonio artistico ormai da tantissimi anni, punto di riferimento della cultura materana, lucana, e Lucia La Terza, che della cooperativa Arte Z, ha reso noto proprio questi dati. Io partirei direttamente con un commento su questo. Allora, grazie innanzitutto per dedicarci questo piccolo spazio all'interno della vostra trasmissione. Noi siamo felici del risultato di quest'anno, appena trascorso, più, come hai già avuto modo di accennare, di accennare sono più di 8 mila i visitatori che hanno avuto il privilegio di vedere la cripta in tutto il suo splendore. Gli affreschi della cripta fungono un po' da porta di accesso a quello che è l'immenso patrimonio della Basilicata a tutta, a partire appunto dalle chiese rupestre di Matera e dintorni. I visitatori possiamo dire che sono stati per il 60% circa italiani, per il 40% sono visitatori stranieri che hanno avuto la possibilità di ascoltare l'audioguida inserita all'interno della cripta del peccato originale, questo percorso, luci suoni, molto suggestivo in inglese, in francese ed in tedesco. Sono in fase di preparazione, anzi sono quasi pronti, altre due lingue, due percorsi multimediali in lingua spagnola e in lingua russa. Io mi fermirei un attimo per, così a caldo subito, avere anche il commento dell'avvocato De Ruggeri, presidente della Fondazione Zetema, che è il centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storiche ambientali, un segno di continuità che sta portando avanti un lavoro che è messo in campo dalla Fondazione, dal suo operato e dal suo circolo in tanti anni. Io ringrazio di questa occasione perché al di là dell'orgoglio di aver realizzato questo presidio culturale che adesso ha questa grossa attenzione, ci consente di fare una riflessione sul patrimonio rupestre materano. Io posso dire che questa è una chiesa straordinaria, io l'ho inseguita, prima l'ho scoperta nel 63, poi l'ho inseguita con mia moglie e mia sorella e un altro amico carissimo che non c'è più, Carlo Scalcione, il primo maggio del 63. Poi l'amico, ma anche lui scomparso, l'amico Vincenzo Dragone, ha donato la grotta alla Fondazione. Siamo riusciti a restaurarla e a renderla fruibile. E posso dire due testimonianze notevoli. L'avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente della Cariplo, che è quello che poi ha finanziato l'intervento, quando mi telefonò da Milano dopo l'inaugurazione mi disse queste cose. Caro amico, in quella caverna, dopo tanti anni, finalmente ho vissuto dieci minuti di quiete spirituale. Tonino Guerra, compagno di viaggio di Fellini e di Visconti, nella grotta ha detto questo. C'è gente che va in giro per il mondo per vedere il bello e ignora che qui a Matera c'è il paradiso. Questo è il paradiso. Ecco, queste sono le forze, le energie che questo territorio ha e non sempre riesci a metterle in evidenza e in comunicazione. Un momento, insomma, anche quello che si può vivere all'interno della cripta di contemplazione estetica, ristoro dell'anima. Io ho la gioia della fede, quindi sono un credente. Non potevo affidare quella grotta alla setticità di una esposizione storico-artistica. Non è un prurito d'arte, quello è un luogo di preghiera e di fede. Io ho cercato di inserire nella visita questa atmosfera. Un po' sintetizzate dal punto di vista grafico ma anche descrittivo in un libro che lei prima mi citava, Le chiese rupestri di Matera del 1966, che abbiamo la possibilità anche di guardare. Quello è il compendio di quel valore civile e protagonismo civile della scaletta. Siamo, fumo quasi 30 persone, che cominciamo a fare la ricognizione del nostro territorio. Scoprimo questo patrimonio straordinario, tra cui, come ho detto, la cripta del peccato originario. Lo pubblicamo in anteprima nel 1966, anonimo, perché l'autore era la scaletta. Io vorrei dire anche questo, è un momento che si combina con questa frequentazione della grotta, che 8 mila persone in un luogo dove possono andare sì e no 15 persone per volta, è un infinito leopardiano. Non è un luogo come la Cappella Sistina dove possono entrare eserciti. Lì possono entrare 15, 16, 17 persone massimo, con una cadenza di mezz'ora circa tra un gruppo e l'altro. Quindi 8 mila persone è l'infinito. E volevo dire che proprio mentre noi celebriamo questo momento, è uscito un volume di un grande personaggio, che è Salvatore Settis, già direttore della Normale di Pisa, presidente del Consiglio Superiore per i beni paesaggistiche e culturali, direttore del centro Guggenheim di Los Angeles, il quale ha voluto dare atto del lavoro della scaletta. Può mostrare in favore di Camera il libro? Sì, questo è l'ultimo libro, Salvatore Setti, Stazione Popolare. Dice questo, mi permetto di leggere, ma quanti sono in Italia i movimenti e le associazioni volontarie nate per difendere una pieve, un centro storico, un bosco, una valle, una spiaggia, secondo le valutazioni più attendibili da 20 mila a 30 mila. Alcune hanno già alle spalle una storia gloriosa su 30 mila associazioni nazionali, che dice a Pe Settis, cito fra tutte il Circolo alla scaletta di Matera, questo è un libro del 2012, fondato nel 1959, che grazie a una presenza e azione riscattò dall'oblio non solo la civiltà rupestre dei sassi, ma l'orgoglio civile della città, fino alla legge speciale del 1986 e all'iscrizione nelle liste UNESCO del 1993. Ecco, noi siamo in una situazione di gratificazione, culminata con la presenza di questi affreschi in Piazza San Pietro. Cioè la quinta che ospita il presepio di Artese ha come immagini gigantesche questi affreschi straordinari stesi da un monaco bellettino longobardo 500 anni prima di Giotto. Questa è la forza ed è anche l'orgoglio di questa città. Insomma è un piacere sentirla parlare e sentire insomma dalle sue parole questi contenuti rispetto a un nostro patrimonio che è diventato insomma motivo di vanto e anche di ammirazione da parte di studiosi esimi come Salvatore Settis che lei ha nominato. E questo insomma credo che sia il percorso che dovremmo insomma battere per tutte le nostre strade culturali affinché si possa raggiungere quell'optimum che poi ci porterà a vivere di cultura. Io mi chiedo sommessamente, è mai possibile che non si riesca a creare un vero e proprio circuito urbano, extraurbano di chiese rupestre restaurate dignitosamente come questa? Questa è l'unica chiesa visibile con questo appeal. Le altre sono luoghi morti dove sono noi nel 156. Ma io ho nella mente 12, 13, 14 chiese che si rese disponibili come questa, chiuse in un circuito, diventano un deterrente e un attrattore mondiale. E' possibile che si va in Cappadocia per vedere chiese che molte volte sono meno qualificanti e meno stimolanti di queste? Potremmo moltiplicare quell'8 mila per 11 e quindi il giochi è... Beh, io penso che facendo un calcolo non aritmetico ma ponderato, credo che le chiese rupestre potrebbero richiamare almeno 25-30 mila visitatori di qualità, cioè di persone che vedono la qualità e che spendono in qualità. Tornerei un attimo su Lucia La Terza, Presidente, ricordiamo della cooperativa Arte Z che si occupa insomma di tutte le attività che rendono fruibile poi il patrimonio. Che cosa avete aggiunto rispetto agli altri anni affinché si potesse raggiungere un incremento così sostanzioso? Allora, una particolare attenzione alla qualità del servizio che offriamo. Naturalmente ci prepariamo ogni volta come se fosse la prima volta che accompagniamo delle persone. La particolare empatia che si crea all'interno della Crypto del Peccato Originale. Gran parte del lavoro sinceramente la fanno gli affreschi perché sono talmente tanto belli, le persone che ci entrano rimangono affascinati. E naturalmente non trascurano quella che è la parte spirituale, la carica spirituale che viene fuori dalla Crypto del Peccato Originale. Noi abbiamo aggiunto attenzione al cliente, attenzione alle esigenze del cliente, una trasformazione del servizio anche in corso, cioè nel senso siamo talmente elastici da poter cogliere quelle che sono le caratteristiche del visitatore e adeguarci a quelle che sono le esigenze. Persone preparate che accompagnano i visitatori sono tutti ragazzi laureati in beni culturali, in ingegneria, quindi hanno un percorso culturale medio alto, quindi accompagnano persone che riescono a comprendere qual è la grandezza di questa chiesa rupestre. Diamo la possibilità all'interno di trattenersi anche oltre il percorso di visita per 5-10 minuti a seconda del caso per godere della bellezza degli affreschi anche oltre il tempo della visita dell'audioguida. Invito tutti quanti a venire a visitare la Crypto perché è veramente un percorso che ne vale assolutamente la pena. Consuntivo, guardiamo in avanti, nel 2013 ci contiamo di poter attivare un servizio di trasporto costante perché quello che abbiamo notato è questa difficoltà nel raggiungere comunque la cripta per persone che solitamente si spostano senza il proprio mezzo. Quindi in questo caso cercheremo di adeguarci alle esigenze creando un servizio di navetta che preveda lo spostamento dei visitatori dal centro di Matera fino ad aggiungere la cripta e viceversa. Abbiamo naturalmente dei contatti con delle agenzie di taxi che offrono il servizio di taxi per il trasporto alla cripta che sono sempre disponibili. Abbiamo incentivato il rapporto con gli alberghi, con le strutture alberghiere. Sono i primi, sono praticamente il biglietto da visita della città quindi sono i primi che entrano in contatto con il cliente e quindi ci teniamo costantemente aggiornati loro per quanto riguarda le nuove iniziative. Come dicevo prima abbiamo attivato un nuovo servizio di audioguida incrementando le lingue in spagnolo e russo. Ci saranno percorsi per i bambini, probabilmente realizzeremo degli eventi estivi dei concerti di una certa qualità, concerti e anche rappresentazioni teatrali di una certa qualità all'interno del presidio. Però è tutto in fase di realizzazione, in fase di progettazione quindi con l'aiuto sempre della Fondazione Z. Chiudiamo quindi con un saluto al 2013 da parte dell'Avvocato Presidente di Fondazione Z. Io sono molto stimolato, nel 2012 ci sono stati momenti di grande gratificazione e di riconoscimento di questo lungo lavoro. Io sogno veramente che si possano restaurare 6-7 chiese rupestri e che queste chiese rupestri possano essere messe in un circuito vincente sul mercato non del turismo culturale, ma del turismo del visitatore culturale di colui che viene a Matera non per vedere, ma soprattutto per apprendere e per avere stimolazioni ed emozioni. Grazie ancora per quanto ci avete detto, auguri, in bocca al lupo, buon lavoro per tutto quello che vorrete mettere in campo, lo spazio finisce qui, grazie ancora, linea alla regia. Grazie a voi.